Nuovo millennio, nuova generazione, capelli colorati ormai non sono più una trasgressione mondo avanza e non si può fermare per trasgredire ormai si sa proprio più cosa inventare vuoi di più la marijuana ed i suoi derivati ormai li fuma solamente casalinghi e pensionati senso si cambierà regularmente a mano a mano che conosci nuova gente, nuovo millennio e nuova generazione, e nuova generazione pensi telematici ed amici cibernetici virtuali gli scripendi per pagarci di transgenici millennio e nuova generazione e nuova generazione e nuova generazione 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 nuova generazione 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 generazione